Bene, direi di cominciare. Intanto, signorina Besson... Guarda che puoi chiamarmi Muriel. D'accordo, allora Muriel, ho qualche domanda da farti sul tuo manga. Avanti, sono tutto orecchi! Questa scena, ad esempio... si conoscono da appena tre vignette, eppure lui si è già dichiarato. E che problema c'è, scusa? In quanto accaneto lettore della saga Rose e steroidi, permettimi di spiegarti la regola cardine di una commedia romantica. Quando l'amore viene ricambiato, l'ottanta per cento della storia si è già conclusa. Stuzzicalo, stuzzica il lettore più che puoi. Stuzzicalo, lo dici? Esatto. Puoi provare a rendere interessante il venti per cento che ti rimane. Ma è una scelta pericolosa e complicata, persino per i mangaka più esperti. Non riesco proprio a capire che cosa intendi. Che cosa? Se due persone si piacciono davvero, allora dovrebbero dirselo. Magari in questo modo, guardandosi negli occhi. O scambiandosi un bacio romantico. Je t'adore. Aspetta, aspetta, aspetta! In Francia funzionerà anche così, ma da noi le persone fanno molta più fatica a esprimere a qualcuno i propri sentimenti. Non riusciamo a essere così diretti neanche volendo. Inoltre c'è anche chi potrebbe sentirsi frenato da un dato evento del proprio passato. Se il sentimento è reciproco, non ci si può dichiarare subito? Sì, esattamente. Per caso tu e Masamune ne siete un esempio? Ma si può sapere cosa ti ha saltato in mente, Muriel? Scusa che tu parli troppo velocemente e non seguo quello che dici. Sto dicendo che non si chiedono certe cose. Ad ogni modo, devi prima comprendere come intendiamo il romanticismo. Non puoi far agire la protagonista come faresti tu. Hai capito? D'accordo, sì, ho capito. Ora ti mostriamo come si comportano i personaggi di una commedia romantica. Perciò presta molta attenzione. Bene, io sono pronta, iniziate quanto volete. Accidenti, dobbiamo proprio insegnarti tutto. D'accordo, allora tanto per cominciare... Per cominciare... Oh cielo, da cosa possiamo cominciare? Non hai pensato a cosa poterle mostrare, vero? Come intendiamo il romanticismo in Giappone? Ma esattamente noi cosa dovremmo mostrarle?